Salve, benvenuti a tutti! In questo video un upgrade incredibile. Ho la mia cosa da presentatore incredibile, cioè non sapete che emozione è per me tenere questo, cioè io da piccola proprio era il mio sogno della vita, rompevo le balle, facevo la presentatrice di qualunque cosa, quindi sì, oggi YouTube, domani Sanremo. Ti fate per me. Comunque, perché ce l'ho? Perché ce l'ho in mano? Perché io di solito avevo questo. Notate le dimensioni, la mia mano è piccolina, quindi è molto piccolo questo quadernetto, e per leggere gli appunti per i video ogni volta ero veramente un miopia moment. Non sapete quanti ho dovuto tagliare nel corso della mia carriera da YouTubers. Invece adesso, con questo, scritto in stampatello maiuscolo con i pennarelli carioca della terza elementare, non devo neanche piegarmi, quindi non peggiorerò neanche la mia già prorompente gobba. Vabbè, comunque sia, basta parlare. Oggi siamo al wrap up di luglio. Devo dire che questa volta non è stato tragico, nel senso che ho letto normale, incredibilmente. Forse ho avuto una vita questo luglio, chi lo sa, di solito a luglio mi spacco le retine da quanto leggo. Questa volta ho letto uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette libri che è molto onesto per gli standard, quindi cominciamo subito. Il primo libro che ho concluso, lo saprete già probabilmente, è La Dea in Fiamme di R.F. Kuang, ovvero il terzo e ultimo libro della trilogia della Guerra dei Papadri. Ora, con questa trilogia vi ho già rotto le balline, il secondo libro di questa trilogia è l'ultimo libro di cui vi ho parlato in un wrap up, quindi saprete già che questa trilogia mi piace tantissimo proprio da morire. È una trilogia fantasy per adulti, ambientata in questo impero che si ispira molto alla Cina, alla storia della Cina, quindi abbiamo tantissima guerra. È proprio un fantasy militare che ha come tematiche centrali appunto gli orrori della guerra, la ciclicità della storia, colonialismo, razzismo, anche guerre civili, tantissimo. È super difficile da attraversare, soprattutto per le tematiche e le scene, perché appunto R.F. Kuang non si tira mai indietro da descrivere scene di guerra, di massacri, e si ispira tantissimo alla realtà. Quindi questo fa ancora più segno nel cuore, sicuramente. E fa anche segno nel cuore il fatto che una persona che ha scritto una trilogia del genere sia così. Non lo so, boh, vabbè. Non so più cosa dire perché ho fatto un reading vlog abbastanza lungo, mi sembra di averne già parlato anche troppo, quindi se volete anche i miei pensieri spoiler su quest'ultimo libro, ma anche sul secondo, nel reading vlog la seconda parte è tutta piena di spoiler. Di questo ho parlato tantissimo, perché mi è piaciuto tantissimo come si è concluso il tutto, proprio un cerchio che si chiude, e le tematiche come sono state affrontate per me, perfetto. Quindi se volete anche sapere i miei spoiler, cioè i miei pensieri spoiler, andate in quel video lì, se no parlo anche senza spoiler. Quindi se volete recensioni tranquille, se siete indecisi, non sapete se iniziare o no questa serie, quel video lì è perfect. E quindi andiamo subito al secondo libro che posso tenere, ovvero un audiolibro che ho letto, che ho ascoltato, ovvero The Rise and Fall of Dinosaurs. Se avete visto appunto il mio reading vlog a un certo punto dico che durante il viaggio voglio ascoltare un libro sui dinosauri, e non ne ho più riparlato, non ho più ricitato questo fantomatico libro sui dinosauri. Che cos'è questo libro? È un libro non fiction ovviamente, è un saggio, e di cui vi ho sentito parlare anche molto bene anni fa quando era uscito, esiste anche in italiano, quindi se siete interessati lo potete prendere, però devo dire che uso un linguaggio molto tranquillo, infatti anche in inglese, in audiolibro non ho avuto difficoltà. È un linguaggio molto terra terra e quindi secondo me anche in inglese potreste provare, però comunque sia, quindi è tranquillamente il saggio, un saggio sui dinosauri, di questo paleontologo, che parla molto generalmente di appunto l'ascesa e la caduta dei dinosauri, quindi tutto il loro regno, che è stato lunghissimo, veramente gigantesco. E niente, quindi non so in verità cosa dire, sì c'è questo linguaggio molto tranquillo, poi mi è piaciuto anche che non fossero solo nozioni, ma parlasse anche della sua vita da paleontologo, dei suoi colleghi, le varie scoperte, anche la storia della paleontologia, la paleontologia, ed è tutto anche molto recente e quindi niente, veramente ho imparato un sacco di cose e i dinosauri non è che mi hanno mai appassionato tantissimo, anzi io in terza elementare, che è quando poi si inizia a studiare, ecco, vero e proprio studio con la storia eccetera, io ero terrorizzata perché vedendo tutti appunto gli amichietti, tutti i libri su i dinosauri, gli amichietti appassionati di dinosauri che avevano, non so, le carte, l'identità del dinosauro, il nome, il nome, il latino, tutto quanto, ero convinta che per la scuola avremmo dovuto studiare ogni dinosauro mai esistito, ogni caratteristica, ogni nome, tutto quanto. Quindi ecco, non ho un grande ricordo legato ai dinosauri, però è stato molto, cioè molto interessante comunque appunto perché non ne sapevo mezza. La cosa che mi ha scioccato di più è che gli indizi chiavi sulla scoperta dell'estinzione dei dinosauri, su come si sono estinti, è stato trovato a Gubbio. Gubbio. Cioè, lui, che è un paleontologo americano, parlava di Gubbio come della mecca dei paleontologi, la meta preferita di tutti i paleontologi, cioè lui ha 11 anni, non vedeva l'ora di andare in Italia con i suoi genitori, non per vedere, non so, Venezia, Roma, le Cinque Terre, no, Gubbio. Lui voleva andare a Gubbio. Bellissimo. Ma andiamo avanti. Poi ho letto una raccolta di storie, ovvero relazioni di Sheila Williams. Che cos'è questo libretto? Sheila Williams ha solo, diciamo, editato questa, cioè ha curato questa raccolta. Sono tante storie di fantascienza legate tutte dalla tematica delle relazioni, appunto, le relazioni nel futuro. Quindi parliamo non solo ovviamente di relazioni romantiche, ma anche di relazioni in famiglia, relazioni di amicizia, relazioni di famiglia, magari non di sangue, eccetera, eccetera. E ci sono dentro a questa raccolta anche altre tematiche, ovviamente, come il lutto, l'accettazione, l'arte, tantissime, tantissime cose. E a me è piaciuto molto. Come tutte le raccolte di storie, ovviamente ci sono quelle che spiccano di più, quelle di meno, un paio non mi sono piaciute, comunque non ho capito bene dove volessero andare a parare, però ce ne sono alcune, soprattutto l'ultima, che è la più lunga, ma è veramente stupenda. ambientata, cioè che parla anche di religione e bullismo, buddismo, scusate, il buddismo ambientata, appunto, in questa società buddista un po' del futuro, e si parla, appunto, anche di perdono. Cioè è molto, molto, molto interessante. Comunque non vi preoccupate, perché comunque molte di queste storie sono molto dolci, puntano molto, appunto, sulle relazioni umane, e quindi sono molto, cioè, molte ti scaldano il cuore, ecco, diciamo. Quindi non sono della serie Black Mirror che ti vogliono spappolare il cervello, ma non sono anche della tipologia di Ted Chiang, che ha scritto Storia della tua vita, anche Respiro, che sono due raccolte, appunto, di racconti di fantascienza, che anche lì, appunto, non sono nell'ambito Black Mirror, ciniche, bastard e così, però servono un po' più a farti riflettere molto anche su, appunto, queste tecnologie che lui si inventa, e non sono sempre dolci, ecco, come dire. Invece queste, secondo me, sono molto più umane, calorose, cioè umane nel senso, appunto, di relazioni, molto più calorose, così. Quindi se volete una raccolta di storie, così che vi lasciano anche un po' la dolcezza in bocca, più o meno, cioè, a parte, ma l'ultima un po', eh, l'ultima però è anche la più bella, quindi, eh. Comunque, se volete, appunto, delle storie di fantascienza che non vi lasciano per due ore fissare il vuoto dallo sconcerto, come dopo una puntata di Black Mirror, allora questa è la raccolta perfetta, nel senso che è molto originale, porta dei concetti di fantascienza belli, però senza, appunto, sconvolgere, molto umano, ecco. Poi dopo abbiamo la scaletta, ho letto Mexican Gothic di Silvia Moreno-Garsia, che tengo questa copertina, perché è stupenda, cioè, veramente, voglio incorniciarla e stamparmela sotto le patere. Comunque, questo libro sì che dovrebbe essere un po' più autunnale, horror, però io l'ho letta adesso. Non è proprio horror, appunto, è gotico. E di cosa parla? Parla della nostra protagonista, Noemi, che è una ragazza di 22 anni, molto libertina, ecco, diciamo, siamo negli anni 50, all'inizio degli anni 50, quindi diciamo che anche mettersi una t-shirt era un comportamento molto libertino, ma comunque Noemi è una persona molto libera, molto intraprendente, ama andare alle feste, ama molto curiosa, ama guidare la sua macchina decapottabile, quindi diciamo che ha tantissimi flirt, così, ma non si impegna mai. Quindi è una persona molto spanezza, come si dice in italiano corrente. Comunque, cosa succede? Praticamente la sua famiglia, suo padre, riceve questa lettera, un po' strana, da la cugina di Noemi, ovvero Catalina. Catalina, che è cresciuta con Noemi e la sua famiglia, dopo che i suoi genitori sono morti, e recentemente si è trasferita nella casa del nuovo marito, appunto, si è sposata con questo ragazzo inglese, e vivono, non in Inghilterra, sempre in Messico, ma nella casa, appunto, della famiglia del marito, che vive ormai in Messico da tanto, tanto tempo. Però rimane la famiglia, diciamo, inglese, tutto, tutto d'un pezzo, così, nobile, un po' puzza sotto il naso, ma niente di che, ecco, diciamo, a Catalina piace molto, appunto, suo marito, cioè si è molto innamorata di suo marito, quindi, vabbè. Però, appunto, ricevono questa lettera molto strana, sembra che stia perdendo un po' le rotelle, e quindi il padre di Noemi la manda a indagare, a vedere come sta, appunto, Catalina, e nel caso riportarla indietro, se, appunto, sta proprio male, oppure, cioè, da un medic in una clinica, ok. Quindi Noemi parte per la magione gotica, ovviamente, della famiglia, della nuova famiglia, diciamo, di Catalina. Diciamo che ci sono molti segreti, ecco, questa famiglia non è del tutto a postissima, ecco. Allora, io poi recentemente ho visto Get Out, e secondo me si assomigliano moltissimo questo libro e questo film, per tematiche, atmosfere e tutto quanto. Quindi, boh, io la butto lì. Se vi è piaciuto Get Out, secondo me, vi piacerà anche Mexican Gothic. Però, ecco, Mexican Gothic, appunto, è un libro molto, cioè, appunto, questa ispirazione gotica, quindi, il cimitero, con la nebbia, la casa, ovviamente, un po' faticente, che nasconde dei segreti, sovranaturale, non sovranaturale, non si sa, e, appunto, se vi è piaciuto anche Rebecca, secondo me, questa è una versione molto più, beh, ovviamente, wateredown, nel senso un po' più semplice, ecco, di Rebecca. Però, ecco, se vi è piaciuto questo, io dico anche, buttatevi su Rebecca, e viceversa, anche se questo non è a livello di Rebecca. Quindi, mi sono piaciute moltissimo le atmosfere, perfette per l'autunno, ovviamente, per il periodo di Halloween, eccetera. Il mistero, anche, che non avevo del tutto compreso fino alla fine, devo dire, non è assolutamente spaventoso, cioè, nel senso, si dorme tranquillamente alla notte. Comunque, invece, per quanto riguarda i personaggi, allora, Noemi mi è piaciuta molto, perché, messa in questo contesto, secondo me, crea anche, proprio, una contrapposizione, appunto, un romanzo che deve essere, appunto, gotico, misterioso, solitamente, magari, ci immaginiamo la protagonista, come può essere quella di Rebecca, quindi, un po' più timida, spaventata, timorosa, invece, Noemi non ha paura assolutamente di niente, e quindi, ogni volta, magari, rispondeva alle provocazioni, si buttava a capofitto, nel pericolo, ma, senza essere stupida, devo dire, è molto intelligente, quindi, non è che rischiava caso, quindi, Noemi mi è piaciuta molto. Poi, i cattivi, anche, mi sono piaciuti tantissimo, non hanno nessuna profondità particolare, ma, secondo me, date le tematiche, date tutto quello che deve essere questo libro, che vuole comunicare, ci sta benissimo che i protagonisti siano semplicemente bici di schifosi, un po' così, capito? Sono semplicemente cattivi, schifosi, bastardi, con nessuna, diciamo, profondità particolare, ma ci sta perfettamente, appunto, ripeto, per quello che deve essere questo libro, e niente, quindi, a me è piaciuto tanto, non è tra i miei preferitissimi della vita, però, assolutamente lo consiglio, se per quest'autunno, volete qualcosa, appunto, di atmosferico, un po' spaventoso, ma senza essere, illegibile, ecco, molto, molto carino. Poi, no, mi piace troppo sta cosa, poi ho letto, Life's Too Short, di Abby Jimenez, che è un, romance, da come potrete intuire, dalla copertina, in verità, questo è il terzo, di una trilogia romance, però, come forse saprete, nei romance, quando ci sono delle trilogie così, solitamente, non hanno gli stessi protagonisti, nel senso che magari, sono personaggi, che comparivano, in un libro prima, così, quindi, possono essere letti, nell'ordine che preferite. Io, ero stata molto attirata, da questo libro, perché, dalla trama, mi sembrava qualcosa di carino, in più, ho visto delle recensioni, altissime, rispetto invece, al primo, che, ho usato, che nel primo libro, appunto, di questa trilogia, ci sono delle criticità, un po' così, quindi ho detto, passiamo subito al terzo, perché mi ispira di più, e devo dire che, non mi ha deluso, è stato molto carino, e, potete leggerlo tranquillamente, anche se voi, non avete letto, il primo e il secondo, di questa trilogia, da quello che ho capito, però, l'autrice consiglia di leggere, cioè, se volete leggere il secondo, dovete leggere prima il primo, però, per il terzo, non dovete leggere niente, ma, complicato comunque sia, di cosa parla, parla della storia d'amore, tra Vanessa e Adrian, Vanessa ha una storia, molto complessa, perché, nella sua famiglia, c'è il gene della SLA, che ha ucciso, molte delle donne, nella sua famiglia, e quindi, lei è, praticamente, sicura, che prima o poi, lo prenderà anche lei, anzi, prima dei trent'anni, perché, appunto, tutte queste sue parenti, sono morte, prima dei trent'anni, e quindi, lei un po' ha accettato, già, appunto, questo suo destino, perché, appunto, la SLA è una malattia, che può venire sia, dal nulla, su cui si devono fare, ancora molte ricerche, la Ice Bucket Challenge, non so se ve la ricordate, giovinastri, era, appunto, per raccogliere fondi, per questa malattia, o, si prende, arriva un po' improvvisamente, oppure, è genetica, e quindi, lei ha il 50% di possibilità, di prenderle, quindi morire, prima dei trent'anni, e lei ha deciso, appunto, di godersi la sua vita, appunto, per questo motivo, è diventata una youtuber di viaggi, non so come si dice, ecco, perché non li guardo, quei tipi di video, perché sennò, mi viene la depressione, perché io invece sono qui, comunque, appunto, diciamo che, dal nulla, ha deciso, basta, io mi devo godere la vita, parto, smetto di fare il lavoro, che faccio adesso, io parto, con i pochi soldi che ho, e ha cominciato a fare questi vlog, è diventata virale, e quindi, adesso è una youtuber, molto, molto famosa, che, appunto, viaggia continuamente, prende tantissimi rischi, è una, appunto, delle più famose, delle più conosciute, però, tutto cambia, quando, sua sorella, che ha una storia molto complicata, anche lei, si presenta con, sua figlia, la sua figlia appena nata, e, la dà, alla nostra Vanessa, gli dice, tienila un attimo, e poi, sua sorella, appunto, scompare, e quindi, Vanessa si ritrova con sto bambino, e lei dice, ovviamente, come faccio a fare i video, non posso più, ma, non ha capito, che, un bambino, per uno youtuber, è, appunto, una miniera d'oro, però, vabbè, almeno Vanessa, è una persona normale, con una dignità, che non sfrutta un bambino, per le views, ma, andiamo avanti, cosa succede, che, una notte, il vicino di casa, un avvocato, molto, eh, conosciuto, di nome Adrian, si sveglia, cioè, viene svegliato, dalle urla, di sta bambina, che, non riesce a smettere di piangere, e quindi, bussa alla porta di Vanessa, e da qui, Allora, questo è, un romance, super dolciotto, proprio da cari ai denti, ma, quando intendo cari ai denti, intendo proprio che, questa, è una ricostruzione, cioè, non sono i miei denti originali, proprio, proprio tanto, quindi, se, forse è il più dolciotto, che abbia mai letto, quindi, se a voi, la troppo sentimentalismo, eh, vi dà fastidio, direi di no, questo libro, però, invece, se, appunto, volete qualcosa, proprio, che vi scaldi tantissimo il cuore, super dolce, questo è perfetto, appunto, perché c'è anche di mezzo, la bimba, e tutto quanto, e si parla, poi, anche, di tematiche molto forti, ecco, secondo me, uno dei difetti, di questo libro, è che magari, sono state inserite troppe tematiche, per essere, appunto, un romance, che comunque, vuole essere dolciotto, eccetera, troppe tematiche, perché, va bene, la SLA, ok, però, abbiamo anche, ansia dell'abbandono, OCD, cioè, disturbo ossessivo compulsivo, abbiamo alcolismo, abbiamo uso di droghe, abbiamo, cioè, qualunque cosa, cioè, questi due ne hanno passati di ogni, tutte le loro famiglie ne hanno passati di ogni, e quindi, cioè, secondo me, diventa un po' troppo, soprattutto, perché, ovviamente, non può essere dato il giusto spazio a tutte queste tematiche, ovvio che qualcuno, andrà dietro, cioè, capito, e quindi, bo, quello mi ha fatto un po' storcere il naso, perché, secondo me, era un po' troppo, già, questa, questo pericolo che la protagonista muoia da un momento all'altro, è un po' troppo, e ti mette un po' eh, e infatti, devo dire che la lacrimuccia mi è sfuggita, la lacrimuccia mi è sfuggita, cioè, se voi volete leggere questo libro, così, senza sapere niente, se siete pronti ad affrontare qualunque cosa, ve lo consiglio, è molto dolce, è molto romantico, se volete sapere qualcosa sul finale, perché volete assicurarvi, volete sapere se ha un finale, cioè, perché posso capire, io, neanche io vorrei leggere un libro romance, senza sapere se magari ha un happy ending o no, ecco, se volete sapere, se volete assicurarvi questa cosa, adesso parlerò molto alla grande linee del finale, ma due parole veramente, appunto, per farvi, per dirvi cosa state per leggere, sennò appunto, quando sparirà questo segno, saprete che ho finito di dire spoiler, quindi, potete rimettere il volume, adesso abbassate il volume, così, ok, se volete leggere questo libro, vi assicuro, happy ending, ok, happy ending, molto dolce, molto happy ending, ti metto un po' di scaga, ma happy ending, ok, quindi non vi preoccupate, ok, io non lo sapevo, questo infatti, fino all'ultimo, ho avuto la caghetta, ma, ok, happy ending, quindi, potete leggerlo, più o meno tranquillamente, perché, ovviamente, tratta di temi molto difficili, quindi, però, happy ending, ok, finito di dire cose sul finale, devo dire appunto che mi è piaciuto tantissimo, è molto romantico, molto dolce, appunto, anche la coppia mi è piaciuta tanto, è una coppia che si sviluppa lentamente nel tempo, ecco, passiamo da sconosciuti ad amici a, appunto, spoiler a una coppia, quindi, appunto, se vi piace Friends to Lovers, questo è molto buono, non è proprio Friends, cioè, a me non piace tanto quando sono tipo amici di infanzia, noi vediamo già che loro sono amici, invece in questo appunto vediamo proprio che, si conoscono da sconosciuti, amici, eccetera, quindi a me è piaciuta questa cosa, è molto graduale come sviluppo, però l'unica cosa è che, secondo me, puoi fare subito le dichiarazioni da bacio perugina, ecco, quelle non mi piacciono tanto nei romance, proprio quelle tipo col cuore in mano, così dopo un mese che ti conosci, ecco, secondo me, mi fa un po' sorcio il naso, però, appunto, ripeto, super dolciotto, quindi siete stati avvisati. Poi ho ascoltato un altro audiolibro, ovvero quello di Violetta, di Isabel Allende, o Allende, vabbè, lasciamo perdere comunque, di, della nostra cara Isabel, probabilmente la conoscerete Isabel Allende, perché è una gran scrittrice sudamericana, io ho letto qualche libro suo, non tuttissimi, ecco, no, assolutamente no, questo mi sa che è il terzo, no, scusatemi, ho letto la trilogia per ragazzi, ho letto Lungo Petalo di Mare, e ho letto anche, e valo una racconta, che vabbè, è velo pietoso, questo è il mio sesto libro, che leggo di lei, e mi è piaciuto, ecco, non tanto quanto Lungo Petalo di Mare, che rimane, secondo me, il più bello che ho letto di lei, però, comunque, mi è piaciuto, racconta la storia appunto di Violetta, la protagonista, che ormai centenaria, nel 2020, si mette a raccontare la storia della sua vita, quindi, parte dal 1920, quindi, diciamo che crea questa cerchia, nel senso che lei, durante la quarantena, per Covid, si mette a scrivere, e racconta appunto di essere nata, durante una pandemia, appunto, la spagnola, la cosiddetta spagnola, e quindi racconta tutto della sua storia, lei nasce in Cile, da questa famiglia abbastanza, borghese, messa bene, ecco, però, affronta tutte poi le difficoltà, del novecento, eccetera, perché, non mi è piaciuto tantissimo, Allora, secondo me, è molto bello, dal punto di vista appunto della storia, a me piace tantissimo, leggere di queste vite, che attraversano, magari, tutto il novecento, che parlano anche della storia, appunto, si intrecciano, con gli avvenimenti, avvenuti appunto, nella storia, in questo caso, ci concentriamo molto, ovviamente, sul Sud America, quindi, anche magari, la guerra mondiale, vista da quel punto di vista lì, che è una cosa molto lontana, quasi che non li toccava, eccetera, appunto, come racconta, almeno, la famiglia di Violetta, eccetera, la guerra fredda, tutto quanto, molto, molto interessante, quindi, da quel punto di vista lì, mi è piaciuto, il problema, secondo me, è che, questo stile di scrittura, è un po' impersonale, questo l'avevo anche notato, un po', il lungo petalo di mare, che è sempre tutto molto, raccontato, e non mostrato, come dire, ci si immerge, molto raramente, almeno, io, la percepisco così, non è una scrittura, che mi fa, sentire, lì nella scena, è una scrittura, che mi fa sentire, come se fosse un drone, che sorvola la scena, capito, non so come dire, direi anche la stessa Violetta, sembra molto una spettatrice, della sua vita, è una grandonna comunque, che nella sua vita, ha fatto tanto, eccetera, però, ho sentito molto più vivi, magari, i suoi familiari, i suoi conoscenti, così, più che lei stessa, mi è sembrata molto, appunto, più una spettatrice, però, comunque, mi è piaciuto, ecco, non mi sentirei di sconsigliarlo, ovviamente, è appunto questa scrittura, un po' impersonale, se fosse stato più lungo, magari, mi sarei affezionata di più, mi sarei immersa di più, ecco, magari, facendo più scene, dilettando di più, ecco, perché, appunto, anche magari, i dialoghi sono raccontati, non c'è dialogo diretto, per esempio, molto di più, molto spesso, c'è il dialogo indiretto, quindi, disse che, quindi è molto raccontato, capite quello che intendo, però, all in all, mi è piaciuto, non un libro che mi ha sconvolto la vita, ma molto bello, e invece, un libro che mi ha sconvolto la vita, è stato l'assassino cieco di Margaret Atwood, che è il prossimo libro, vero? Ok, sì, devo parlare, l'assassino cieco, mi ha proprio sconvolto, allora, devo essere sincera, l'ho comprato, quando l'ho visto da libraccio usato, soprattutto per la copertina, perché, come ho già detto, c'è qualcosa di un po' vintage, io, mi innamoro, ma poi, vabbè, era usato, Margaret Atwood, non è Giancarlino patatino, quindi ho detto, proviamo, non avevo mai letto niente, di Margaret Atwood, ma sono sicura che dopo questo libro, dovrò recuperare, tanto, perché mi è piaciuto appunto tantissimo. Allora, io inizialmente pensavo che questo libro sarebbe stato molto simile a Violetta, nel senso di appunto una signora di una certa età che si mette a raccontare della propria vita, e invece è molto, molto di più di questo. Infatti abbiamo la nostra protagonista, Iris, alla fine del secolo, infatti questo libro è stato pubblicato nel 2000, nel 99-2000, quindi abbiamo la nostra protagonista, Iris, o Iris, che appunto alla fine del secolo si mette a raccontare sempre anche lei della sua storia, quindi anche lei nasce agli inizi del Novecento, in Canada, invece siamo in una città immaginaria del Canada, e quindi decide di raccontare la storia sua e di sua sorella, che scopriamo appunto nella prima riga, perché infatti la prima riga di questo romanzo dice, aspettate, dieci giorni dopo la fine della guerra, mia sorella Laura volò giù da un ponte con un'automobile, quindi diciamo che, ok, e quindi seguiamo anche, cioè siamo anche presi dal mistero appunto di sua sorella, perché è sempre comunque un personaggio molto ambiguo, è la sorella minore di Iris, Laura, però è un libro con la storia dentro la storia, ok, tipo a scatole cinesi, materi osca, infatti tra una parte e l'altra si alternano anche degli estratti, o comunque appunto proprio il libro che Laura aveva scritto prima di morire, infatti Laura dopo la morte divenne molto molto famosa, davvero tanto famosa, infatti ancora nel presente, diciamo nella fine appunto del secolo, la nostra protagonista Iris, quindi ancora praticamente 50 anni dopo la morte della sorella, va ancora alle convention, va ancora alle premiazioni, il nome di sua sorella, cioè proprio sua sorella è diventata una scrittrice conosciuta in tutto il mondo, dopo appunto la morte, perché appunto il libro viene pubblicato postumo. Cos'è questo libro? Appunto si chiama L'assassino cieco, e parla di una storia d'amore molto scabrosa, molto un po' a un amore impossibile, tra questa ragazza che sembra una ragazza appunto per bene così, e uno scrittore un po' squattrinato, sempre on the run, appunto questa storia d'amore molto molto complessa, molto tossica, eccetera. e un'altra storia nella storia appunto che in questo romanzo L'assassino cieco, il nostro protagonista maschile racconta alla protagonista femminile del libro una storia, appunto lui mano a mano si inventa questa storia, uno scrittore di quei, già di romanzetti di fantascienza, da edicola diciamo anni appunto, anni 40, quei romanzetti un po' con le donnine nude in copertina diciamo, e quindi lui mano a mano si inventa questa storia ambientata in questo pianeta immaginario, e quindi anche questa storia ovviamente avrà un significato particolare all'interno del romanzo. E appunto, come dicevo, mi ha sconvolto molto, perché questo libro parti che pensi già di sapere tutto, e invece non sai niente. Come ho scritto nella recensione di Goodreads, arrivare alla fine di questo libro, è come rendersi conto di avere finito un puzzle, un puzzle di 1500 pezzi, senza essersi resi conto di star facendo un puzzle, nel senso che appunto pensi di sapere tutto, invece non sei una mimbia. Poi oltretutto, tra appunto un capitolo e l'altro, oltre appunto tutte queste cose di cui vi ho già parlato, ci sono anche pezzi di giornale, quindi ovviamente all'inizio, se la nostra protagonista ci dice che sua sorella è finita giù da un ponte, c'è l'articolo di giornale che parla della morte di Laura. Ed è interessantissimo perché tutti questi articoli di giornale parlano della famiglia di Iris, perché è una famiglia molto potente, molto autolocata, fa parte appunto della nobiltà, dell'aristocrazia diciamo in un certo senso, sono più che aristocrazia, sono ecco borghesia, la borghesia è in ascesa, e quindi parlano sempre della sua famiglia, se si sposano, se uno muore, se eccetera eccetera. Ed è interessantissimo anche perché gioca con una delle tematiche di questo libro, appunto l'apparenza versus quello che si è veramente. Quindi attraverso questi stracci di giornali noi vediamo come la società dell'epoca, la società per bene, ecco vede la sua famiglia. Quindi già dall'inizio, non è uno spoiler, ci sono un po' di dubbi su il fatto che sia stato un incidente, questa morte di Laura, perché ci sono molti testimoni che dicono di averla vista, che stava tranquillamente andando e poi improvvisamente ha serzato ed è caduto giù dal ponte, quindi anche la stessa protagonista sospetta qualcosa. E invece l'articolo di giornale parla delle infrastrutture, del ponte danneggiato, eccetera, che bisogna stare più attenti, bisogna finanziare per mettere a posto le infrastrutture, così appunto gioca anche su questo. Quindi appunto ci sono tematiche dell'aristocrazia, dell'apparenza versus, scuro questo è veramente. Poi ovviamente anche il ruolo della donna, perché appunto vediamo un contrapporsi delle figure centrali del libro ovviamente, che sono appunto Iris e Laura. Laura, questa ragazza un po' strana, che non si vuole mai conformare, diciamo, alla società, che fa sempre un po' di testa sua, sempre un po' la testa tra le nuvole, si fa troppe domande, ecco, per una società del genere. È molto romantica e poi anche lei è un po' vittima della sua circostanza, come anche la protagonista, che sinceramente non mi sono sentita di giudicare anche per le scelte che fa. Lei è una persona che si sente tante responsabilità, anche come sorella maggiore, come, diciamo, ereditiera, come erede di un'importante appunto eredità del padre, è un punto molto ricco, ha tutto, o delle fabbriche, eccetera, e l'ha sempre cresciuta con questo quasi senso di colpa, ecco, con questo senso di colpa di occuparsi della sorella. Anche la stessa madre, prima di morire, le ha detto preoccupati, cioè occupati tu di Laura, eccetera, quindi, ecco, le scelte che fa appunto non è lo spirito ribellino come può essere Laura, quindi è una persona molto magari camaleontica che fa quello che le viene chiesto, ecco, diciamo, magari sceglie di rabbonire gli altri, sceglie di accontentare gli altri più che pensare a si stessa, però appunto, come dicevo, secondo me, ci sta anche pensando all'epoca, pensando a quello che ha passato appunto nel nostro protagonista, che poi cresce molto, perché appunto sin dall'inizio la vediamo anche da anziana, ecco, quando racconta la storia e si sente che è cambiata molto, c'è una ragazza, c'è una ragazza, è una signora molto più acida, molto più senza peli sulla lingua, e infatti mi è piaciuto tantissimo anche lo stile di scrittura che è sia molto molto poetico, ma non eccessivamente, nel senso che anche parlando di questioni come la memoria, l'essere ricordati, il lutto, eccetera, la famiglia, tira fuori dei concetti molto molto belli e profondi, ma al contempo è tantissimo veramente ironica, viene un po' fuori dal nulla e mi ha fatto anche ridere a tratti, quindi questo non me l'aspettavo assolutamente, quindi appunto abbiamo questo protagonista che è molto come dicevo Camale Montica, un po' così, però nasconde questo spirito molto più sbarazzino, ecco, e per il resto i personaggi abbiamo non delle macchette, però appunto anche loro servono ai fini delle tematiche, anche la narratrice stessa ci dice scusatemi se Richard, che è appunto uno dei personaggi per esempio, risulta un po' una sagoma di cartone, ma anch'io l'ho sempre visto come una sagoma di cartone nel senso che vi sto raccontando la storia dal mio punto di vista e per me lui è sempre stato così, non si è mai aperto con me, non l'ho mai capito, non l'ho mai compreso, quindi io ve lo racconto come lo vedevo io, per me era questo e quindi non è secondo me pigrizia da parte dell'autrice, è sia coerente con la storia perché appunto anche lei dice boh, io non l'ho mai conosciuto sto tizio, secondo me era così, io lo vedevo così, ho visto queste scene, ecco, e dall'altra però è anche ottimo per le tematiche, cioè come vi dicevo, come anche in Mexican Gothic, che i cattivi non sono questa profondità, eccetera, però è quello che deve essere, la tematica è quella e quindi ovviamente non sto andando troppo nel dettaglio perché non voglio fare spoiler, non voglio rivelare troppo, però appunto secondo me è giusto anche così. E poi appunto un po' anche come Violetta abbiamo l'intrecciarsi con la storia, ecco, invece qua appunto da un punto di vista canadese, perché siamo in Canada, però non tanto quanto Violetta se devo dire la verità, c'è comunque di sottofondo, ma ci sono magari questioni storiche più rilevanti per questo libro, per esempio lotte di classe, appunto l'aristocrazia, l'elemento anche del femminismo, della questione della donna, cioè il ruolo della donna nella società, nel matrimonio, eccetera, quindi più queste questioni, ecco che la storia puramente, magari la guerra, però ecco, questo secondo me mi è piaciuto, cioè mi è piaciuto tantissimo, ovviamente molto più di Violetta, che comunque appunto devo dire rimane un libro carino, però questo anche solo per quanto mi ha fatto immergere nella storia, mi ha fatto conoscere i personaggi, mi ha fatto simpatizzare, ecco, molto di più di Violetta, per non parlare di colpi di scena, di mistero che non mi aspettavo assolutamente che in Violetta non ci sono, e niente, quindi mi sento un po' scema a dire, vi consiglio questo libro perché è uscito ormai vent'anni fa, più di vent'anni fa, probabilmente l'avete già letto, Margaret Thatwood, ripeto, non è ciccino patatino, quindi comunque veramente bellissimo, non me l'aspettavo bello, sicuramente leggerò, beh, a questo punto il racconto dell'angella, però voglio anche vedere cos'altro è scritto e indagare. E niente, signore e signori, abbiamo finito, niente, io mi sento troppo grande con questa cartellina, sono patetica, niente, spero di non aver parlato troppo, non ho idea perché appunto non ci vedo, quindi non so per quanto ho parlato, ma immagino tanto, e ditemi se avete letto alcuni di questi libri oppure ditemi cosa avete letto questo mese e niente, se vi piace la mia faccia scrivetevi pure, se vi piacciono le cavolate che dico, ne dico molti di più su Instagram e Goodreads che come al solito sono in descrizione e noi ci rivediamo alla prossima, bye bye!